dal vangelo secondo luca in quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani peccatori per ascoltarlo i farisei gli iscrivi mormoravano dicendo costui accoglie i peccatori mangia con loro ed egli disse loro questa parabola un uomo aveva due figli più giovani di due disse al padre padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta ed egli divise tra loro le sue sostanze pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto tutte le sue cose partì per un paese lontano ed asper però il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto quando ebbe speso tutto sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci avrebbe voluto saziarsi con le carrubi di cui si nutrivano i porci ma nessuno gli dava nulla allora ritornò in sé disse quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame mi alzerò andrò da mio padre gli dirò padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi salariati si alzò e tornò da suo padre quando era ancora lontano suo padre lo vide ebbe compassione di corso incontro gli si gettò al collo e lo baciò il figlio gli disse padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio ma il padre disse ai servi presto portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare mettetegli l'anello al dito e i sandali di piedi prendete il vitello grasso ammazzato lo mangiamo e facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato e cominciarono a far festa i figli maggiori si trovavano nei campi al ritorno quando fu vicino a casa o di la musica le danze chiamò uno dei servi gli domandò che cosa fosse tutto questo quello gli rispose tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo egli si indignò e non voleva entrare suo padre allora uscì a supplicarlo ma egli rispose suo padre ecco io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici ma ora è tornato questo tuo figlio il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute per lui è ammazzato il vitello grasso mi rispose il padre figlio tu sei sempre con me tutto ciò che è mio e tuo ma bisognava fare festa e allegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato sia rodato gesù cristo sempre sia rodato eccoci qui anche oggi in questo sabato 14 marzo 2020 e mentre vi leggo questo vangelo non so se lo sentite ma il sottofondo è sempre lo stesso le ambulanze che passano e passano e passano queste ambulanze che non finiscono mai di passare non si riesce a leggere neanche una pagina di vangelo senza aver sotto questo rumore terribile in questo capitolo quindicesimo del vangelo di san luca famosissimo la parabola così chiamata del figlio al prodigo o del padre misericordioso come si preferisce ovviamente gli spunti per la riflessione come sempre sono veramente tanti la prima cosa che mi verrebbe da dire che spesse volte noi riusciamo a entrare a rientrare in noi stessi solo quando c'è un grande bisogno come il figlio al prodigo solo quando comincia a trovarsi nel bisogno a caso di una grande carestia e solo dopo aver speso tutto cioè non avere più nulla essere in uno stato di profonda indigenza tale per cui si mette a mangiare addirittura cercare di mangiare addirittura le carrube dei porci che veramente vuol dire essere arrivati proprio al fondo del fondo è una grazia poter rientrare in se stessi è una grazia poter riflettere su se stessi potersi fare un esame di coscienza e purtroppo purtroppo siamo così superficiali come dicevamo nei giorni scorsi che neanche ci accorgiamo di dove siamo di dove siamo e quando uno è nel bisogno rientra sempre in se stesso purtroppo no purtroppo no purtroppo no dovrebbe succedere così al figlio al prodigo è successo così rientra in se stesso e fa un ragionamento un ragionamento per tornare indietro capite per tornare dal padre nel suo caso e noi che ragionamento stiamo facendo in questo momento di grande bisogno qual è il nostro ragionamento mi colpisce che una delle prime cose che il team dei medici cinesi che dalla Cina è venuto qui ad aiutarci una delle prime cose che hanno detto arrivati a Roma è stata ma c'è in giro troppa gente ancora c'è in giro troppa gente non tutti portano le mascherine uno dice sì ma le mascherine non ce ne sono e allora stai a casa se anche le avessi dovresti stare a casa lo stesso se non le hai a maggior ragione devi stare a casa niente noi siamo in giro il governo ci ha assicurato che non manca il mangiare non manca il cibo voi provate a vedere se riuscite normalmente come fate ogni sabato come le nostre mamme i nostri papà ogni sabato che è un po' il giorno della spesa chi va sabato mattina chi va sabato pomeriggio ecco voi provate come sempre ad uscire per andare a comprare un po' di spesa ma normale no un po' di latte qualche pacchetto di pasta il sugo non so un cavolo tre arange una spesa una spesa della settimana no quella che tutte le famiglie normali fanno provate a vedere se riuscite a farlo senza dover fare una coda di due ore mi hanno mandato stamattina la foto ma vera una foto vera una persona che conosco benissimo mi ha mandato la foto del balcone di un suo condomino che gli sta davanti ci saranno state su quel balcone in foto è difficile da contare ma guardando la lunghezza del balcone ci saranno state io penso 60 casse di acqua io credo tra le 50 e le 60 casse di acqua io boh dico evidentemente pensano che si prosciugheranno anche le falde acquifere cosa me ne faccio di 60 casse di acqua ma proviamo a pensare a una persona anziana a una famiglia di persone anziane marito e moglie anziani ma proviamo a pensare ma come fanno a fare una coda di due ore per andare a fare la spesa perché io devo riempirmi il carrello fino all'esondazione cioè rendiamoci conto una persona anziana può portare i pesi che portiamo noi giovani come fa a farsi la spesa per riempiendo tre carrelli ma non è possibile ma se non lo fa deve andare più spesso ma andare più spesso come normalmente uno deve fare no andare una volta o due volte la settimana ma una roba del genere vuol dire perdere una mattina solo per riuscire ad arrivare al supermercato hanno fatto vedere mi hanno mandato la foto di un supermercato a Parigi mezz'ora prima che aprisse se voi aveste buttato uno spillo dall'alto questo spillo stava in piedi alla faccia del non creiamo assembramenti questo non vuol dire aver capito essere rientrati in noi stessi vuol dire che ancora non stiamo capendo noi non stiamo capendo e non siamo rientrati in noi stessi perché dall'inizio di quando questa vicenda è partita che andare al supermercato è diventata è diventato un esodo cioè tu sai quando parti ma non sai quando torni non dici vabbè io devo andare al supermercato quando torni ma forse per stasera riuscirò a tornare può darsi speriamo che poi stasera torno a casa solo due mesi fa solo un mese e mezzo fa non era così ma cos'è cambiato? capite invece di cambiare le abitudini sbagliate abbiamo cambiato le abitudini giuste invece di cambiare l'abitudine del uscire fare quello che voglio e invece stare in casa e quindi stare in casa ho cambiato le abitudini giuste che ho ancora di andare a fare la spesa e quindi vado all'ammasso proprio mi butto dentro come se non ci fosse un domani eppure non c'è bisogno non c'è non siamo in tempo di guerra non siamo in guerra per cui non c'è più il mangiare non c'è più il cibo capite non siamo in questo stato oggi c'è una sola emergenza stare in casa paradossalmente i supermercati dovrebbero essere vuoti capite cioè il paradosso per cui uno dice sentite mettiamoci d'accordo siamo non so due o tre famiglie di amici ci chiamiamo e ci diciamo uno di noi va a fare la spesa e la fa per tutta la famiglia ma non la spesa nella logica del domani scoppia la bomba atomica ma la spesa normale una spesa settimanale per quattro famiglie certo sarà abbondante ma sono quattro persone in meno che si muovono e se ne muove una sola e invece no ognuno pensa per sé ognuno pensa per sé ognuno si muove secondo i suoi stili i suoi gusti va sì sì ecco io non so se questo bisogno ci fa realmente rientrare in noi stessi tutto andrà bene no? continuiamo a ripetere poi ci mettiamo a cantare da fuori dalla finestra sul balcone sì sì no ma per l'amore del cielo cioè va bene tanto oggi sull'eco di Bergamo c'erano dieci pagine di morti dieci eh dieci facciate piene di persone morte dieci facciate quando nella normalità ce n'è una dieci con tutte le famiglie annesse connesse distrutte dal dolore dal lutto di non poter neanche andare a vederli di non poter neanche fare un funerale di non poterle neanche salutare di non poterle neanche mettere un vestito addosso niente neanche quello e noi ci diciamo che andrà tutto bene che vinceremo cantiamo ma noi così non vinceremo non possiamo vincere non possiamo vincere in questo modo non si vince perché lo diciamo non si vince perché ce lo ripetiamo non si vince perché cantiamo si vince solo se stiamo alle regole si vince solo se ciascuno si assume la sua responsabilità solo così si vince solo se stiamo al nostro posto solo se laviamo le mani manteniamo le distanze non usciamo se non per grave comprovata necessità e via di seguito questo bisogno perché è un bisogno e non capiamo che più meno radicali siamo e più questa cosa andrà avanti capite meno capaci di sacrifici siamo oggi e più sacrifici ci verranno chiesti domani tutto si allunga quello che si potrebbe risolvere in due settimane si risolve in un mese due quanto non si sa perché non siamo capaci di fare veri sacrifici il sacrificio oggi qual è? stare in casa lavarsi con accuratezza frequentemente le mani se oggi la mia preoccupazione è festeggiare il compleanno del mio bambino e non ci siamo non ci siamo non ci siamo non è questa la nostra preoccupazione oggi festeggiare un compleanno festeggiare una laurea festeggiare una ricorrenza andare a trovare gli amici no ma io sto bene no ma anche io sto bene e vabbè ma dai allora vediamoci siamo tutti e due stiamo bene facciamo insieme una cena non si può non si può non si può non si può perché il pensiero non può non andare alle persone che stanno male non si può non si può non si può non pensare ai medici a quelli del 118 ai soccorritori alla protezione civile che rischiano la vita minuto dopo minuto per noi perché parliamoci chiaro questo virus non è che vola nell'aria no non è che si apre le finestre e viene il virus in testa se l'hai preso da qualcuno l'hai preso quindi capite cioè non è che siamo qui a fare il capitolo delle colpe però due conti dobbiamo farli ce li dobbiamo fare due conti un conto uno dice vabbè ho avuto un incidente sono caduto ma non era colpa mia proprio scivolato sull'acqua e vabbè ma se e allora non va bene e quindi lui rientra in se stesso e torna a casa di suo padre sì anche questa cosa no e lo abbraccia e si vogliono bene lo riabilita gli da un anello il vitello grasso non è forse anche questo il tempo di ripensare i nostri rapporti le nostre relazioni no stiamo distanti oggi per abbracciarci domani ma forse eravamo distanti anche ieri sapete quante relazioni distanti abbiamo noi quante quante relazioni distanti quante poche volte abbiamo detto alle persone che ne erano degne ti voglio bene per me sei importante quanto preghiamo per le persone che ci amano e che noi amiamo e che magari potremmo non vedere più questo bisogno di riabbracciarci no sì sì ma io tanto tante volte in confessionale sentivo e questo mi antipatico e quello non lo sopporto e con quello non vado d'accordo no quello non lo perdono e quello non lo sopporto vorrei che morisse vorrei che non ci fosse più nella mia vita e adesso tutti che hanno voglia di abbracciarsi un po' come la storia delle chiese no adesso che non ci sono le messe e tutti che vogliono andare alla messa fino a un mese fa si predicava per il fatto che Gesù era abbandonato i tabernacoli abbandonati le chiese sono vuote la gente non va più a messa un mese fa fino a un mese e mezzo fa queste erano le omelie adesso tutti che vogliono le messe adesso tutti che vogliono andare in chiesa ma vi rendete conto il controsenso quindi quando tutto questo finirà quando tutto questo finirà e nessuno lo sa ma quando finirà come vi ho già detto io voglio vedere quanta gente può essere in chiesa perché se sarò ancora vivo se il Signore mi darà la grazia se sarà a sua volontà che io sia ancora qui a parlarvi io queste cose ve le dirò me la sono segnata ve lo dirò vi dirò vi ricordate tot mesi fa quando si diceva eccono ho tolto le messe eccono abbiamo i sacramenti ecco dove è tutta la gente adesso perché io sono sicuro che finirà così sono sicuro riapriranno rimetteranno le messe torneremo i sacramenti ridaranno tutte le cose che devono ridare e le messe saranno come prima saranno come prima saranno come prima purtroppo è così e le chiese saranno come prima vuote tutta sta gente che improvvisamente trova la fede perché adesso non perché c'è l'emergenza perché c'è la sofferenza ma no ma neanche per il sogno trova la fede perché come ragione la sua ragione qual è? la polemica la fede si innesca sulla polemica siccome mi tolgono le messe allora a me scoppia la fede viene fuori la fede no guardate la fede non si fonda sulla polemica anche questi articoli che leggo di continue polemiche ma la fede non si fonda lì la fede non si fonda lì non si fonda non nasce dalla polemica la fede non nasce da ripetizioni ma assolutamente nel modo più assoluto la fede nasce da rientrare in se stessi la fede nasce da un incontro intimo col Signore certo la Chiesa luogo sacro per eccellenza il tabernacolo non ne parliamo ve le ho dette per la lunga per la corta sul tabernacolo tutto quello che si poteva dire sul tabernacolo mi viene da dire ve l'ho detto ma oggi il tempo è diverso oggi c'è un tempo diverso oggi ci è chiesto di stare altrove e non di far polemiche petizioni e quant'altro di mettere sempre il dito nelle stesse cose e dire sempre tutte queste cose sempre il negativo sempre ma guardiamo noi stessi guardi rientriamo in noi stessi come diceva Santa Teresa facciamo un esame di coscienza noi stessi perché quando finirà questa cosa del virus dopo dovremmo stare in chiesa la chiesa dovrà essere stracolma e dopo tutti quelli che hanno fatto tutti questi versi poi devono stare in chiesa la mattina e la sera a pregare dopo dovranno andare emesse tutti i giorni ci dovranno essere emesse feriari stracolmi di persone perché se così non fosse se così non sarà tutto quello che c'è stato adesso è stata tutta una farsa tutta una farsa fondata sul gusto del polemizzare sul gusto del criticare gli altri invece di guardare noi stessi e quindi lui torna e fa festa perché è vero se torni così come il figlio al prodigo rientrando in te stesso poi si fa festa questo è vero cioè quando c'è un vero cambiamento interiore la vita che ti attende dopo è bella è una festa io credo che chi vive bene questi giorni di quaresima come una vera quaresima segregato certo perché è una segregazione è una piccola prigionia una prigione dorata ma è pur sempre una prigione chi vive bene questo momento forse per la prima volta fa una vera quaresima forse per la prima volta stiamo facendo una vera quaresima nella nostra vita ma penso che quando arriverà la fine di questa quaresima così particolare ecco io penso che chi l'avrà vissuta solo chi l'avrà vissuta bene veramente scoprirà Dio padre come padre sentirà la bellezza della casa paterna sentirà proprio la gioia quella gioia che viene da un cuore nuovo da uno sguardo nuovo sulla realtà da uno sguardo nuovo sulle persone da uno sguardo nuovo sullo stare insieme da un cuore più ordinato più ordinato più rigoroso più attento all'altro più onesto meno superficiale più sensibile più sensibile al tema della morte al tema del dolore più sensibile al fatto che è una grazia poter avere accanto qualcuno quando si muore è una grazia è una grazia non morire isolati ma questo solo chi avrà vissuto bene questo momento questo è veramente il momento del silenzio del grande silenzio c'è poco da ballare da cantare non si esorcizza così la morte io non credo che si esorcizzi così la sofferenza la sofferenza non ha bisogno di essere esorcizzata la sofferenza ha bisogno di essere assunta Cristo ha preso la corce su di sé non si è messo a ballare a danzare per far finta che non fosse o per darsi una speranza la speranza non è lì la speranza è in Gesù è Gesù la nostra speranza la speranza sta nel progetto di Dio Padre è lì che sta la speranza non in altro questo lo sappiamo benissimo tutti che non sta in altro la speranza e allora potremmo proprio usare questi giorni questo silenzio questo questo stare a casa proprio per dire eh sì anch'io come il figlio al prodigo ho bisogno ho bisogno anch'io di altro ho bisogno anch'io di stare altrove e di rimettermi in sesto perché se no la nostra fine quale sarà? e sarà quella del figlio maggiore del fratello maggiore che vive la casa di suo padre come una realtà angusta piccola e il massimo che può pensare è il capretto capite? il padre parla del vitello grasso lui vede un capretto per far festa con i suoi amici non vede altro che un capretto ha un cuore piccolo un cuore come dicevamo ieri non ha un cuore mischino un cuore gretto e non riesce a vedere altro che un capretto non riesce a vedere tutta l'estensione del padre non riesce a sentire la comunione col padre ma solo il dovere non ho mai trasgredito non ho mai fatto non ho mai detto ma la casa del padre è una casa innanzitutto e il padre è un padre non è un latifondista è un padre e come tale si comporta col figlio ecco allora la vigilia della domenica di questa altra domenica di quaresima e di silenzio ecco stringiamoci a San Giuseppe alla Madonna per chiedere la grazia che metta nella nostra testa quella sapienza che tanto ci manca che metta nella nostra testa quel sale che ci fa capire che dobbiamo stare fermi dobbiamo stare fermi dobbiamo stare dove siamo dobbiamo pregare certo stando fermi stando al nostro posto e uscendo proprio il meno possibile accordatevi avrete degli amici magari vicini no? accordatevi con i vostri amici dite dai facciamo a turno una volta esci tu una volta esco io una volta esce un altro ci mettiamo insieme facciamo a turno e poi magari evitatevi anche un po' vicini e poi esce uno e fa la spesa per tutti dobbiamo andare in farmacia non sappiamo che andiamo in farmacia in dieci non può andare uno per tutti accordiamoci mettiamo insieme le cose che dobbiamo prendere poi uno va e va per tutti è un po' come la cosa dell'andare a farsi portare la spesa a casa che oggi è impossibile perché mi hanno detto che oggi su un supermercato qua vicino hanno guardato per farsi portare la spesa a casa è il primo posto libero tra due settimane capite? tra due settimane però la logica è la stessa se non si può far così inventiamocela noi uno dice mettiamoci d'accordo in quattro famiglie tre famiglie due famiglie quello che è e va uno una volta va uno una volta va l'altro lo fa per tutti è come portare la spesa a casa così diminuiamo la possibilità di contagio diminuiamo le uscite diminuiamo e così finalmente anche a questi medici a questi sanitari alla polizia daremo una possibilità di respiro di respiro poter tornare anche loro a casa non dopo 15 ore di lavoro ma poter togliere un po' di sofferenza anche loro perché sapete veder la gente morire non è bello veder la gente soffrire non è facile non poter fare niente non è facile che il Signore ci conceda la grazia di un rientrare veramente in noi stessi si ero dato Gesù Cristo